Assolutamente contrario a questa chiusura degli stati all'interno dell'Unione Europea, all'interno delle frontiere che noi avevamo abbattuto e vogliamo abbattere con Schengen, basti pensare cosa sarebbe un tornare all'Europa nella quale per passare in Alsazia dalla Germania alla Francia bisognava subire controlli, subire passaporti circondati da uomini armati e circondati da carri armati e autoblindate. Tutto questo oggi non c'è più e oggi attraversando quel confine che è stato un confine di odio e di guerra chiedi al tuo compagno di viaggio ma siamo ancora in Germania o siamo in Francia. Tutto questo rischia di essere vanificato dall'eventuale prevalenza di questa logica del lavoro e del diverso che costituisce la legazione dell'Europa.